Nocera Inferiore, città-cantiere. Proseguono i lavori della realizzanda rotatoria, con annesso parcheggio che servirà a decongestionare almeno in parte l'incrocio tra via Barbarulo con via Azzori, un'infrastruttura che ha avuto una lunga gestazione. Buone notizie anche per la perizia dei tecnici allo storico Pino. La verifica non ha riscontrato infatti eventuali criticità, quindi non dovrebbe essere abbattuto. Oltre all'attenzione per la mobilità cittadina, cantiere aperti anche per la costruzione degli alloggi popolari a Monteviescovado e la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria. Abbiamo ereditato tante proposte di finanziamento ottenute nella passata amministrazione per un lavoro fatto anche da me accanto al sindaco Torquato, oggi li stiamo realizzando, abbiamo approntato, sono partiti i lavori per la rotatoria, stiamo adeguando il progetto, sono progetti rivisitati e attualizzati al momento storico che stiamo vivendo, sono partiti i lavori lì della rotatoria, presto adegueremo delle sottoluzioni alternative per un miglior flusso viario. Stesso concetto per il cantiere che è partito la settimana scorsa per la realizzazione dei 32 alloggi a Monteviescovado, con annesso abbattimento dei primi prefabbricati pesanti post terremoto che la città aspettava da tempo, anche lì siamo riusciti a allocare il cantiere, a portare delle soluzioni ancora più adeguate, stiamo completando il primo lotto nel centro della città per il completamento della rete fognaria, è partito anche il secondo lotto per le periferie che presto arriverà a collettare anche la zona industriale, contiamo in questi primi anni di mandato di mettere giù tutti i cantieri organizzati e preventivati in modo da poter completare le opere al più presto.